Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di Zen Diffusion che mi ha avviato questo bellissimo diffusore con telecomando e anche questi oli essenziali. Ad ogni olio essenziale abbino un percorso di crescita personale ed è davvero molto bello perché comunque possiamo programmare il nostro diffusore e poterci comunque rilassare sul divano. Io lo uso spesso quando mi metto in camera e mi voglio rilassare anche perché con questa luce vi potete godere comunque un relax proprio a 360 gradi perché crea un'ottima asfera davvero fantastica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.